L'app Immuni è ora disponibile per essere scaricata sui telefoni di tutti i cittadini. Nelle prossime settimane, nelle Marche e in altre tre regioni, Liguria, Abruzzo e Puglia, l'app sarà operativa per consentire di mettere a punto le procedure di introduzione in tutta Italia. Ora abbiamo un'arma in più per fronteggiare il Covid e contenere il virus, ha dichiarato il presidente Luca Ceriscioli, e per questo le Marche hanno aderito volentieri alla fase sperimentale. È un ulteriore strumento a nostra disposizione, ha proseguito il governatore. Nessuno saprà dove siamo, cosa facciamo o come ci chiamiamo, ma l'app potrà informarci immediatamente se siamo entrati in contatto con una persona positiva e ci consentirà di seguire subito i necessari percorsi di sicurezza sanitaria. Immuni è un'applicazione che funziona senza seguire gli spostamenti e senza conoscere l'identità della persona che la installa sul proprio cellulare o quella delle persone con cui si entra in contatto. Con il contributo di tutti, si legge nella schermata introduttiva, Immuni aiuta a contenere il virus e a tornare prima possibile alla normalità. Ma come funziona esattamente? Una volta attivata, l'applicazione registra i contatti con altri utenti usando il Bluetooth. Scambia codici temporanei e casuali con altri dispositivi che l'hanno installata. Questi codici non permettono però di risalire all'identità dell'utente. Quando uno di questi risulta positivo al coronavirus, attraverso l'app Immuni si attiva un meccanismo per cui vengono avvisati possibili contatti che a loro volta dovranno allertare il medico di base o il pediatra per iniziare il percorso assistenziale. L'applicazione si può scaricare gratuitamente e in modo volontario sui telefoni iOS e Android. Non accede alla rubrica, non invia SMS e non chiede il numero di telefono all'utente. Per l'assistenza tecnica è attivo il numero verde nazionale.